Runner lo puoi chiudere anche lì. Allora vediamo invece i miei tre ticket cosa mi danno. Allora cominciamo con una orbo dorata che schifo non fa. Comincio con una orbo dorata che schifo non fa. Quindi vediamo magari un pochettino cosa mi danno. Edgar sarà interessante anche per me. Non Edward, Edgar. Niente primo ticket un cestino. Mamma mia secondo ticket azzurro però attenzione che ho dei ticket azzurri ho avuto delle belle sorprese quindi. Vediamo che cosa succede. Vediamo vediamo. Me le voglio guardare tutte queste. Queste pool. Vediamo se magari la. Ah bonnani a ldt5. Madonna voi vi immaginate quando uscirà la bt e la force d5. No non mi dire che sono pieno. Dai no fermo che stai facendo. Dai core l'ultimo orb dammi speranza. Niente. L'ultimo orb è un cestino. Tutte quelle 35 di Rubicone. Eh. Perché Rubicone se non mi ricordo male io ci sono andato di ticket e poi ho preso la bt con i token. Forse. se non mi ricordo male. Infatti ho pullato con i ticket e mi sono addubbato di 35 praticamente. Vabbè. Oh. Attenzione. Oh. FR di Octis. Ottimo. Perfetto. Abbiamo chiuso il banner senza spendere un centesimo. Ottimo. A posto così. Ottimo. Ottimo. Grazie a tutti.